Ok, se siete curiosi di sapere cosa succede quando arriva un tifone in Cina, ecco quel che aspettate. Notare quanto sono sotto? Non ho idea, non vedo il fondo, sono sotto quasi fino al ginocchio. Panico, spero non mi cade al cellulare, altrimenti vestemmio fino alla fine dei tempi. Numero uno, signor. Adio Audi. Cioè, sembra Garnon. Segue un Valone alegre, non mangiate il suo nome ecco. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info sta finendo quest'acqua, il torrente sta finendo dritto dritto in parcheggio, quindi auguri. C'è la bitca di gai e incontro, 59cm, 60cm. La la cintura ciò che dà più a bicicletta, un mercato a scocciare. Möffi i correnti, c'è il mio corrento di grande luce, s'intrigo, triturante di agricol, Wow! Wow! Ah, ho un po' questa male è? Per me vieni aché un po' di Natale, in geri, mi sono un po' di Natale. In Italia, come vi raggiungo. Quasi! Per meaccordo! Per me scusate, a me guardiam il vino. Attarciò a me il vino. Ah, ho un po' di Natale, La città è la città di un'altra